Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo unissimo video, io sono Mau, oggi siamo qui perché sono appena uscite le nuovissime sfide, la nuova skin segreta Predator ragazzoli Siamo qui per andare a completare la prima sfida, la più difficile per il momento Queste sfide ci diranno di trovare la navicella ragazzoli, misteriosa Ragazzoli ci dobbiamo recare proprio qui a Fortezza Furtiva perché è proprio qui che troveremo la navicella spaziale di Predator ragazzoli Quindi ci rechiamo nella parte alta a destra di Fortezza Furtiva proprio qui nei dintorni ci dovrebbe essere la sua navicella Andiamo subito a controllare se c'è, vediamo, vediamo un po', dovrebbe essere da queste parti Se non la trovate subito ragazzoli cercate in questa zona perché comunque dovrebbe proprio trovarsi qui Vediamo un po', allora qui non c'è nulla, quindi proviamo a girare ancora, giriamo, 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 vediamo un po' Andiamo, eccola qui, eccola qui, navicella del signor Predator L'avete sentito anche voi? Lasciando stare quello che di sicuro è stato un suono di Predator andiamo qui, eccola qui la sua navicella Arrivati qui Ci sta Arrivati qui avrete completato la missione Eccola qui, ci troviamo proprio a Fortezza Furtiva nella parte in alto, a sinistra Eccola qui, proprio qui in questo punto di qua Guardate qua si può aprire e prende la cesta Detto tutto ciò, spero che questo mini video vi sia piaciuto, vi ricordo No raga, no 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 Meglio che concludo il video che arriva Predator, se no Detto tutto ciò vi ricordo lasciate un like, un commento, un'iscrizione Supportate il mio codice catore e social mau nei negozi oggetti di Fortnite E noi ci becchiamo in un prossimo e nuovo video Bene ragazzi Ciao